Prima di istituzione. Voglio vedere la prima deli, non si vede, è mimetizzata. Ah, io, nel sud della Francia, con i stassi, eh. Non si sa dove si è. Si, si vede. Adesso lo metto a fuoco, adesso. Ha capito, eh. Ha capito che se la sta passando brutta. Hopla! Ha visto gli ufo stanotte, vedi? Eh, zio, mi ha sconvolto, mi ha cambiato la vita. Tu stai scherzando, no? Io sono l'ultimo a crederci. Perciò quando ho visto tutti quei libri che sono stati scritti, non sono stati scritti per niente. Tutti questi libri? Si. Mannaggia a te. Mannaggia la miseria, guarda cosa mi tocca a 48 anni di cambiare tutto il mio ragionamento sulle cose. Per un ufo? Per un ufo. Per un ufo. Venga poco. Il signore ci ha tentato a dirmi che sono dei sattieri, sattieri che è quella velocità, ciao. A zigzag? A zigzag no, a una bella velocità, sono sovelli. Andavano a zigzag, guarda, vedete cosa vuol dire un aereo? Ah, quello è l'aereo. Si. Dritto. Hai capito? Invece? Hai visto? Si. Si. Cioccava. Non è sempre così. Non vieni qui e non sei più lo stesso. Non sei più lo stesso. Eh si. Eh si. Cioccava.